ragazzi bentornati in questo nuovo video di GTA 5 online beh oggi cioè oggi facciamo cioè dobbiamo rubare un po le macchine ma non credo che non c'è tempo per esportarle vabbè adesso devo rubare la electric no lo so se la conoscete ma vabbè devo rubare una macchina eh devo fare due chilometri non è proprio tanto però non è poco non è poco però ora un po attenzione attenzione no sgomma sgomma troppo sgomma troppo questa gomma sgomma troppo c'è questa gomma ma porca vacca questa mannaggia questa macchina sgomma troppo non c'è niente da dire eppure è bella questa macchina però sgomma io non sgomma ora ragazzi di soldi io ne tengo in banca 877 mila e 730 no 7730 beh io sto cercando di fare un milione o due milioni per comprare la roghe toy oppure altre macchine speciali però per comprare la runer 2000 ci vuole tempo perché 4 milioni e 5 milioni sono soltanti e poi nemmeno 4 mesi già faccio 3 milioni però ragazzi se faccio sempre queste emissioni qui alcuni danno 100 mila quindi le posso fare facili facili soldi però cioè le posso fare i soldi però ci vuole tempo comunque questo sanguidare non c'è molto più non c'è molto più non c'è molto più io so dove mi sono nascolta io posso andare anche da solo posso andare sempre da solo posso andare sempre da solo Sto perdendo la La polizia che sta ferma in strada, con la macchina proprio a caso, a meno che c'è un seumaforo rosso, ecco recuperato l'acqua, dai morti La polizia che sta ferma in strada, con la macchina che sta ferma in strada, con la macchina Che c**o, mannaggia, mannaggia, io lo sapevo che stava qua, vi ho fatto pure vedere che stava in queste parti qui, se io mi avvicinavo, sto avvicinando eh, solo che sti qua non stanno guida bene, vedrai io che sto andando veloce, non sto rispettando nemmeno i semafori e i cartellini, poi mi sta portando la bruma, tutta questa velocità, quindi, no guarda, ora si ferma qui in una casa, dove sta il garage, e sta là dentro, guarda, ma sta sempre lì Allora, oddio, oddio Oh 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 come fanno ma da dove mi fanno a colpire da così lontano ma come fanno ma sono andati pure i cittadini ma come fanno ma dove stanno sono invisibili ok oisca un peccato ok 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 Oh Ah Eccumoi Oh Eccumoi Oh Eccumoi 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 Oh 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 Ma come fa? Ma cos'è? Ma c'è un cerchino sto qui Oh Figa Sto qua fa il cerchino Mi scelta quasi in un colpo Dai Oh Ma tre ore a prendere Una Un aetrio Così qua che scioltano malamente C'è Dove li trovi su tutti i nostri Uh che culo Ah Compariscono così a caso Scappa 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 Sia 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 Che etrio Mamma mia che etrio bellissimo Quetta rossa Il mio colore preferito rosso Non ci credo è bella Questa fai che si ha sgomma eh! Non so che sgomma Non so che sgomma un po' troppo No adesso riescono gli elicotteri e le macchine Ci scommetto Ci scommetto GUARDA Ma l'elicottero non lo vede? Le macchine vabbè Almeno le macchine L'elicottero non lo vede Veramente non lo vede Ma l'elicottero non lo vede Uuuuuh Uuuuh Un parcheggiato Uuuuh Un sfumata Un aggiu Un aggiu Un aggiu Un aggiu Un aggiu Un aggiu Vabbè, queste strade già sono a memoria, ho proprio a memoria la strada, e poi pure vicino, quando ho un chilone, credo, eh, devo pagare 10.000 dollari, vabbè, magari non mi lascio a memoria la strada, e lui si fa a scelta, cio, poi credo si deve girare, sì, sì, mi ricordo, questo palazzo, questo bianco, devo girare, ecco, infatti, c'è un punto, uh, che scomata, raga, io ho rubato un bel po', un bel po' di macchine, veramente, un bel po' di macchine, vedo, oddio, verrà, vediamo, allora, noi abbiamo fatto, vabbè, ci credo, allora, teniamo ancora ad esportare, la X80 Proto, la Gesser, la Bestia, le E3, questa macchina, non mi ricordo proprio come si chiama, hanno fatto un sacco di caressante con questa, se non mi sbaglio, o mi appiezzo, se si blocca quando corre, se guardate ragazzi, si, si blocca quando corre, se blocca, se blocca, se blocca, se blocca, se blocca, Simele, Bindi? I'm readin' you boss. What? I'm gonna love you. What? Roar. 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 tanti quindi io direi se ci abbiamo un pochino di tempo di fare un po' di cazzeggio si vai giù che lo scettiamo vai giù sta scappando sta scappando sta scappando sto scena, sto scappando, c'ho paura, ma porca vacca, ma zio ci si è fumato qualcosa, c'è il suo stato, 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 in quel buchino c'entrava però eh, se devo dire la verità c'entrava, ma di poco c'entrava, c'è il suo stato, c'è il suo stato, c'è il suo stato, c'è il suo stato, bucata bucata corro un po' con le ruote bucate beh solo una non è bucata non si buca oddio quante ruote bucate non riesco a girare io sto girando un po' a girare un po' a girare se voglio fare una bella scommata non riesco a girare un po' a girare vuoi che non ti darò un po' a girare vedi che tu sei cosa avete fatto avete acquistato pozzaluda non morite male mori morire morire Grazie a tutti! Bucate 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 Sperate Bucate 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 Mori Svegliere pure con lo scappostaggio Bucate 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 Oh Tagara totan Hai trovatun altra strada? Ma No La polizia che non mi vede se non mi vede vabbè non vuole questa ruota aspetta no, è tipo un muro invisibile chi c'è da guardare, né? chi c'è da guardare, né? cosa c'è? cosa? sono brutto porca... no, no non ci vedo, proprio addosso a me ora ragazzi, io concludo il video lanciando un muro aspetta, voglio infiammare tutto grazie a voi vabbè ragazzi spero che questo video vi è piaciuto se vi è piaciuto lasciare un like ragazzi se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi ragazzi vi ci vediamo alla prossima e vai